Papà, che cosa ne diresti se io decidessi di lasciare la squadra di basket? Lasciare la squadra? Già. Direi che è avventato. Non sei il peggior elemento della squadra. Tua madre diceva sempre che puoi riuscire in qualunque cosa. Sì, lo so. Infatti, sto pensando di fare qualcos'altro. Per esempio? Il teatro con la scuola. Beh, il teatro è una buona cosa in fondo. Ma l'impegno che hai preso con la squadra e la scuola. Ah, lascia stare. In quello che faccio voglio essere il primo. Io ho una gran voglia di vincere. Mi fa piacere sentirti dire questo. Eh, saluti al signor Howard, reddiviti e bulloni. Stai, hai una bella maglietta. Eh, grazie. Andiamo, è tardi. Buff, viene con te? Sì, ma viene per conto suo. Ti serve aiuto qui? Ah, non preoccuparti, faccio io. Divertitevi. Grazie. E non correte.